Stabilizzazione dei precari in aeroporto. L'UGL Trasporto Aereo e la Wilt smentiscono aeroporti di Puglia. Non c'è alcun accordo che possa trovare applicazione visto che loro non hanno firmato. Il perché sta nel fatto che da una parte aeroporti di Puglia licenzierebbe dei lavoratori a tempo indeterminato e dall'altra si assumerebbe lavoratori precari. Il 6 febbraio 2015, scrivono i segretari regionali delle due sigle sindacali, aeroporti di Puglia ha diffuso un comunicato stampa con tanto di dichiarazione dell'amministratore unico Giuseppe Acerno nel quale quest'ultimo si dichiara soddisfatto e addirittura felice per la firma dell'accordo sindacale che avrebbe portato alla stabilizzazione dei precari di ADP. Trascura volutamente di riferire, dicono, che l'accordo è stato sottoscritto solo da alcune organizzazioni sindacali e cioè Filt CGL e Filt CISL e che il 12 febbraio 2015 si terrà presso la prefettura di Bari un incontro tra UGL e UILT per affrontare l'avvertenza dei precari. Non solo, dicono, Filt CGL e Filt CISL rappresentano pochi iscritti negli aeroporti pugliesi e senza la definizione dell'avvertenza da parte delle nostre sigle sindacali l'accordo non può trovare applicazione. Ove aeroporti di Puglia si impegnerà a stabilizzare i 70 lavoratori precari, sarebbero tra l'altro già pronte le lettere di licenziamento per 9 lavoratori a tempo indeterminato che ADP cederebbe in un'altra azienda a fronte di una ipotetica riduzione di operativo voli. I rappresentanti sindacali preannunciano quindi azioni eclatanti presso gli aeroporti di Bari e di Brindisi per denunciare questo stato di cose richiedendo l'intervento delle forze politiche per far luce sui fatti di aeroporti di Puglia.